Si tratta di sentire Jacopo Potto dopo l'amichevole che precede il campionato di A3. Jacopo, innanzitutto ti faccio questa domanda, la scelta di andare ad Acqui dopo tanti campionati vissuti in categorie diverse. Ma l'ambizione di questa società mi ha convinto, credo di poter dare ancora molto a questo sport. Sto bene fisicamente, quindi la società mi ha convinto a venire ad Acquiterme e sono molto contento della mia scelta. Che campionato ti aspetti? Non lo conosci, però ti sarei fatto un po' la tua idea, come ci arrivate? Parlami un po' di questo, ultimo test prima del campionato? Sarà un campionato duro, anche se molto veloce. Rapido, rapidissimo. Ogni girone dura praticamente due mesi, quindi dobbiamo arrivare bene la domenica prossima. Credo che oggi abbiamo visto che sarà un campionato complicato, contro una squadra che lo scorso anno ha praticamente dominato fino a poco, fino a quasi al raggiungimento della 2. E quindi abbiamo visto che sarà molto difficile. però credo che abbiamo le qualità per fare molto bene, ma credo che dobbiamo ancora lavorare tanto. Che squadre pensi possano essere protagoniste di questo campionato? Voi ci provate, no? Mi pare da aver capito. Credo che l'ambizione nostra sicuramente è quella di stare nei piani alti. E poi, sai, i nomi fanno poco. Bisogna giocare la squadra, credo che dà la possibilità di far bene, ma ci sono anche tante altre squadre che possono dire lavoro. Mantua come l'hai vista? Beh, Mantua è una bella squadra, è in difesa molto, molto forte, e credo che sarà da notare. Grazie mille. Grazie mille.